E' uscita l'ultima puntata di Muschio Selvaggio, ospite Medi. Prima di girare la puntata abbiamo registrato una piccola intro io e Marra in cui raccontiamo il futuro di questo podcast, che purtroppo per ora si interrompe qui. Scelta sofferta da parte mia e di Marra perché eravamo molto contenti della direzione che aveva preso questo podcast, abbiamo lavorato duramente insieme a tutti i ragazzi per cercare di far evolvere questo formato in qualcosa di diverso, migliore, e purtroppo la situazione è una merda per dirlo in francese, comunque vi lascio il link del video, potete andare a vederlo. Ciao amici! Io ci tenevo sinceramente a ringraziare pubblicamente Davide Marra perché quando è ripartita questa avventura letteralmente eravamo sormersi dalla merda, il podcast sembrava morto e in dieci mesi di lavoro abbiamo fatto rinascere una cosa in cui nessuno avrebbe mai scommesso, è stata un'avventura pazzesca, ci siamo super divertiti, mi dispiace davvero, grazie Marra, ci vediamo presto, ciao!